Libertando le regole! E le regole vanno per tutti! E' finita! Il fatto che l'Italia fino a ieri fosse la meta preferita di tutti questi che arrivavano da tutta Europa per organizzare i reivi legali. Il fatto che l'Italia fino a ieri fosse la meta preferita di tutti questi che arrivavano da tutta Europa per la vita. Il fatto che l'Italia fino a ieri fosse la meta preferita di tutti questi che arrivavano da tutta Europa per la vita. Il fatto che l'Italia fino a ieri fosse la meta preferita di tutti questi che arrivavano da tutta Europa per la vita. Forse ci si dovrebbe interrogare su quale sia il grado di democrazia. Abbiamo ottimi rapporti con una parte dei paesi del Nord Africa perché la Libia è per noi strategica e la stabilizzazione della Libia è fondamentale. Il fatto che l'Italia fino a ieri fosse la meta preferita di tutti questi che arrivavano da tutta Europa per l'Italia. E quindi ho avuto la febbre due giorni dopo la scala in Milano e non sono riuscita a partecipare a questo vertice dei paesi euro-mediterranei. che era molto importante perché credo si sia capito che noi stiamo proiettando molto di... ho fatto esattamente quello che volevo fare e mi dispiace non... quello che dicevo qui è dispiace non... 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 aver potuto partecipare a un vertice di elegante quello al quale dicevano che non erano andate perché c'era Macron. in realtà diciamo non ci sono andate perché non ho l'età. Si stanno le regole! Le regole vanno per tutti! E' finita! Il fatto che l'Italia fino a ieri fosse la meta preferita di tutti questi che arrivavano da tutta Europa per organizzare i reivi legali